Strada facendo, Gaetano Quagliariello per Rubettino, il racconto di un cammino lungo i sentieri dell'Italia di mezzo, quasi qualche giorno dopo la conclusione del lockdown che ci ha costretti a casa. Si è capace di fare politica anche camminando, senatore Quagliariello? Questa era una vecchia ispirazione di Giustino Fortunato, che diceva che per conoscere un territorio bisogna attraversarlo a piedi. E devo dire che io ho sperimentato questa cosa in tanti cammini. L'anno scorso, quello che racconto in questo libro, è un cammino che mi ha portato nel cratere, dove ci sono i borghi più belli d'Europa, dove c'è ancora un'anima di questo paese, una parte dell'anima di questo paese e dove c'è tanto tanto abbandono. Quest'anno sono venuto da queste parti perché ho fatto il cammino di San Tommaso, ho partito da Tagliacozzo, ho fatto il velino, gli altipiani, ho costeggiato il Sirente, ho passato la Maiella, sono arrivato fino a Ortona, dove ci sono le spoglie di San Tommaso a posto. Quindi ho visto gli Abruzzi, una regione che ha tante sfaccettature e tanti problemi diversi. Ho capito forse un po' meglio cosa serve a questa regione per ripartire dopo questa ulteriore brutta esperienza, quella della pandemia e che cosa questa regione può ricevere dal Recovery Fund se fa le cose per bene. I suoi territori sono diversi e hanno esigenze diverse. Il modo di fare politica è cambiato anche per la pandemia, si fanno anche riunioni, si fanno addirittura sedute istituzionali su Zoom e su altre piattaforme. Tornare a camminare per un politico, che tipo di sensazione le ha dato anche dal punto di vista dell'entusiasmo per il suo lavoro, per il suo impegno? Devo dire la verità, io non ho smesso mai di camminare, persino di correre, rispettando sempre le regole. Tornare a camminare è anche avere consapevolezza di cosa abbiamo passato. E vuol dire anche tornare a frequentare dei luoghi che per un certo tempo ci sono stati proibiti. Noi abbiamo attraversato una pandemia, non ce lo dobbiamo dimenticare, che ha un po' abolito il sacro, a differenza di tutte le altre pandemie della storia. Perché c'è stato un periodo nel quale non potevamo andare nemmeno in chiesa, e quando i nostri connazionali morivano molto spesso senza il conforto. Lei appunto parlava dei collegamenti ferali in rete. Ecco, per esempio, lo smart working può essere una possibilità per tanti borghi abbandonati. Se è possibile vivere in un posto salubre, dove il distanziamento sociale è una regola naturale, non lo devi imporre, dove i tuoi figli possono vivere e crescere bene. Magari tu puoi lavorare da casa raggiungendo la città uno o due volte a settimana, beh, insomma, ci puoi pensare. E tanti paesi che stanno morendo possono tornare a vivere. Magari tu puoi lavorare da casa raggiungendo la città uno o due volte a vivere.